Ciao amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Dunque ancora 48 ore di tempo uggioso, stabile però, con nebbie piuttosto diffuse, anche se questa mattina il nostro territorio si è un po' alzata. Ovviamente attenzione per chi è in giro, perché ovunque, dico ovunque, da Milano fino a Trieste e fino all'Abruzzo, la nebbia è padrona del territorio. Quindi una situazione che è contrassegnata appunto da questo campo anticiclonico piuttosto vasto che si è impossessato da qualche giorno e che naturalmente, visto il periodo, senza un elevato di cambio d'aria, quindi senza ventilazione, favorisce l'approssimazione e la stagnazione delle nebbie sul territorio per buona parte della giornata. Situazione che andrà sicuramente migliorando la giovedì quando l'alta pressione si sposterà verso est e automaticamente lascerà campo a una discesa di aria artico-marittima che avrà se non altro il compito di spazzare via suon di vento prima da Ponente e poi dal nord-est questo tipo di tempo. Non avremo effetti piovosi degni di nota per il momento, li avremo in seguito, ma se non altro cambierà questa situazione di blocco anticiclonico che tanto male fa. Dunque per ciò che concerne la giornata odierna, contrassegnata appunto da nubi basse, foschie dense e nebbie o un po' ovunque, specialmente fuori dal territorio comunale, per buona parte della giornata. Temperature minime che si trattano tra i 2 e i 4 gradi, temperature massime che non andranno oltre i 6-7 gradi. vista appunto l'assenza di sole. Nessun tipo di vento è previsto, quindi automaticamente il tempo sarà così ancora fino a domani. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, ci sentiamo domani.